sono meravigliosi ragazzi veramente meravigliosi no in realtà avete fatto male a fare questa domanda perché io ho un occhio verde e un azzurro e Giovanni insiste io ho una palla verde e una viola per dire che ho gli occhi azzurri sì ci dai azzurri quest'occhio guarda le mie palle amore dimmi se non è vero che sono una viola e una verde tu guarda queste Giovanni fanno dai ti prego non farlo schifoso guarda sono viola è vero che è viola è vero che è verde cosa? l'occhio no è azzurro questo è vero che è viola no sembrava cattivissima sai